Buonasera, mentre Mario Giordano parla di un tema in diretta, ha parlato di un tema sensibile, ovvero quello delle visite specialistiche, della mancanza di assistenza sanitaria in tutta Italia, una situazione veramente grave, con liste d'attesa lunghissime, io stavo raccogliendo i tanti messaggi che negli ultimi 3-4 giorni mi sono arrivati, una mole di messaggi impressionante, tutti legati a un unico tema, quello dei malori improvvisi, questa nuova patologia che purtroppo ormai è impossibile da evitare sulle prime pagine dei giornali, perché tutti i giornali che hanno capito che ce ne sono veramente troppi hanno iniziato a pubblicarli sulle varie testate. E appunto ho preso 4-5 testate a caso per farvi capire la situazione degli ultimi giorni, cioè gli ultimi giorni la situazione sta sfuggendo di mano, sicuramente a livello di numeri presumo non sia normale, il dubbio è più che lecito. Vedo che si iniziano a collegare adesso, forse è arrivata la notifica, vorrei ricordare che la notifica della diretta di due ore fa è arrivata circa 40 minuti dopo la diretta, questo per farvi capire i tempi e i modi che stanno utilizzando per far sì che le notizie vengano diffusi il meno possibile. Tutto normale, quello che mi chiedo io, i malori improvvisi che ci sono per voi è cosa normale, è tutto normale? Vi farò vedere alcune, buonasera, mi perdo una diretta se non c'è, ciao Ciero, ciao buonasera, ciao Carlo anche a te, cosa bolle in pentola? Bolle è una situazione deprimente, deprimente più che altro perché non ammettono che qualcosa di anomalo c'è. Se non per questa, per la motivazione di questi malori improvvisi, che potrebbero essere anche normali da come ci raccontano, il dubbio però è lecito, io sinceramente dubbi ne ho, più che altro perché adesso stanno incolpando attenzione, per i malori improvvisi, non volendo ammettere quella che potrebbe essere una realtà differente da quella che raccontava il mainstream, loro cosa fanno? Danno la colpa ai sanitari, alla mancanza di sanitari, dall'aereo al campo di gioco, ai soccorsi e al ristorante, danno la colpa sempre ed esclusivamente ai sanitari che non soccorrono in modo adeguato le persone. Un problema che c'è sempre stato, è vero, però amici, io se fossi nei media, se fossi nei politici, se fossi nella stessa sanità pubblica inizierei a pensare che magari le colpe non sono di chi soccorre in ritardo, questi disgraziati che si trovano in condizioni di dover ricevere cure immediate e purtroppo non ce la fanno, magari perché la motivazione di questi malori è diversa da quello che pensano, o meglio, da quello che vogliono farci credere. Andando a vedere le notizie, vi faccio vedere tanto per capire di cosa sto parlando, mi sentite ancora? Sì, guardate, sono le ultime ore, guardate, un uomo di 35 anni, qua ne parlano tutti, Regione Piemonte, uomo di 35 anni, muore sul volo Torino la mezza per un malore, il comandante ha fatto rientro a Caselle, ma l'uomo è deceduto, qua ha dato colpa ai soccorsi, a Ryanair, il volo Ryanair, e questo è delle ultime ore. Altro, il cacciatore, qua ne hanno parlato tantissimi, di 26 anni, morti in ospedale, il padre non c'era, il medico in campo, quindi la colpa, siamo distrutti, vogliamo la verità, presenteremo querela. Quindi querelato, la mancanza di assistenza in campo, è stato, verrà querelati le società sportive e chi doveva occuparsi dell'assistenza sanitaria, quando magari il problema potrebbe essere un altro, il dubbio è lecito. Altro malore, guardate che lavoro, Telenord.it, altare, muore, malore improvviso, muore dodicenne, ragazzino espirato in elicottero durante il trasferimento a San Paolo di Savono. Ovviamente anche qua c'è una scusante, dicono che soffriva già di patologie, io non lo so, non lo so sinceramente, però la cosa è che un dodicenne muoia di infarto è molto, molto, molto strana. Altra notizia, il calciatore quattordicenne ha avuto un malore in campo a Guardia e Grele, ne abbiamo parlato anche in trasmissione, elicottero del 118 atterrato in campo, l'ha salvato da quello che ho capito, però hanno attribuito, pensate a Guardia e Grele, la data del 14 c'erano per la precisione, quindi tre giorni fa, c'erano e 22 gradi, ho guardato le varie fonti meteo. 22 gradi e la scusante che hanno utilizzato in questo caso, amici, per un malore in campo a un ragazzino di 14 anni, il caldo, il caldo, però l'avventura è rimasta e paralizzata per il freddo, stessi giorni, praticamente a 5 giorni di distanza, uno dei due ci prende in giro, oppure entrambi, entrambi. Altra notizia, guardate, infarto a ristorante di Atripalda, Jonathan Napolitano, anche questa è l'ultima ora, muore a 27 anni in un ristorante, muore di infarto fulminante per un giovane di Mugnano, ragazzi, un'altra notizia incredibile e tragica, 27 anni. Un altro, medico anestesista trovato morto in ospedale forse a causa di malore, ha deciduto durante l'orario di servizio, il 17 aprile, sempre oggi. Amici, io mi sono fermato limitato ad alcune di quelle che mi avete mandato e che sono riuscito a verificare, sono tutte notizie verificate. Questo fa capire, amici, che qualcosa di strano forse c'è. Tutto normale? La domanda la pongo a voi. Tutto normale anche che non si riescono più a fare dirette, che vengano bloccate, limitate, che scatti incredibilmente, nonostante la rete funzioni adeguatamente. Io il dubbio me lo chiedo, perché la rete vi assicuro che funziona bene. Faccio un test al volo per capire, perché mi dite che scatta la diretta, ma io ho una rete che è super affidabile e infatti non c'è nessun problema di rete. Questo fa capire che stanno, cercano di limitare il più possibile queste notizie. Chiedetevi la motivazione. Questa è la rete che ho in casa in questo momento, guardate. Non può scattare. È impossibile. Lo dico da mezzo informatico, io che mi occupo di media, social, video e tutto, la rete, controllo in tempo reale, guardate, ripeto il test, assolutamente la rete funziona benissimo, quindi se a voi scatta la mia diretta è perché la stanno limitando su Meta. Facebook o qualcuno, qualche fact checker o qualcuno che è incaricato di limitare le notizie. Guardate, con un mega in upload, l'upload andrebbe già, funzionerebbe già 11 mega in upload, quindi quasi 10 volte il necessario e 31 mega in download. Quindi mi stanno totalmente, guardate, mi stanno totalmente limitando. Questo è il test fatto in tempo reale, ve lo rifaccio. Per farvi capire che stanno limitando loro, non ci sono problemi di internet, tutte balle, tutte bugie, quello che ci raccontano. Guardate, ripetiamo il test in diretta. Questa è la rete che in questo momento mi supporta, la diretta, il mio modem, questo, guardate, 30 mega in download, quindi funziona benissimo. Andiamo a vedere, guardate, 11, 12, 13 mega in upload, quindi se scatta, amici, scatta, semplicemente perché stanno bloccando la diffusione di queste notizie. Amici, è una forma di censura gravissima, è una forma di censura gravissima. Ho verificato anche la diretta pomeridiana che saltellava, che veniva bloccata, non era un problema mio di rete, io invio i dati come si deve, quindi i casi sono due. O ti bloccano perché stanno censurando e sono dei censori e non vogliono che queste notizie vadano in giro, oppure hanno dei problemi tecnici alla piattaforma di Meta. Ogni dubbio è lecito, anche in questo caso. Tornando ai malori, amici, preghiamo per le famiglie, perché veramente preghiamo per le famiglie. Io temo tutto normale, ovviamente ho messo la domanda, l'interrogativo, non posso dire che non sia tutto normale, perché non sta a me a dirlo, starebbe teoricamente ai medici, starebbe alla sanità pubblica, agli istituti di statistica nazionali, al governo italiano dire se è tutto normale o se non è tutto normale. La cosa è certa, questa serie di malori delle ultime ore, guardate, 35enne sul volo, 26enne calciatore, 12enne morto per valore improvviso, calciatore di 14enne soccorso, è andato da colpa al caldo con 22 gradi, preso in giro, infarto al ristorante di Atripalda, Jonathan muore con un infarto fulminante a 27 anni, alta notizia, medico anestesista ha trovato morto in ospedale, sono tutte notizie degli ultimi due giorni, tre giorni, di cosa stiamo parlando, amici? E quelle, attenzione, quelle che non sono finite sul giornale, quante saranno? Tutto normale? rispondete voi nei commenti, preghiamo per tutta questa gente, non tanto per le persone che non ce l'hanno fatta, che saranno già tra le braccia del Signore, questi giovanissimi, preghiamo per le famiglie che stanno soffrendo in questo momento, io non voglio accusare nessuno, non voglio mai accusare nessuno, vorrei solo la verità, vorrei solo capire il perché di questa serie di malori che per me non sono normali, spero che qualcuno mi sventisca con dei dati certi e non con la solita fuffa che ci raccontano da quattro anni e che poi alla fine viene fuori, che la verità è l'esatto contrario di quello che ci hanno raccontato, mi dispiace per questa gente, vi auguro una buonanotte, vado a finire di vedere Mario Giordano, molto interessante e a proposito di Mario Giordano vorrei dire che non è tutto normale neanche a livello sanitario, che non ci siano soldi, risorse e liste d'attesa umane per gli italiani che hanno bisogno di cure mediche, quando i soldi per mandarli a dei pagliacci in giro per il mondo per fare delle guerre li troviamo in un minuto, dei miliardi e miliardi di euro, però mancano i soldi per i nostri italiani, è veramente una cosa triste, una cosa triste amici. Ciao a tutti, vi auguro una buonanotte e anche ai fact checker che hanno dei figli anche loro, hanno dei parenti, delle madri, dei figli e dei fratelli anche loro e non gli auguro nulla di quello che sta accadendo, però forse se diventate un pochino più seri e un pochino più vicini al popolo ne andrebbe anche della vostra salute e dei vostri cari, perché siamo tutti sullo stesso piatto, un piatto rovente che rischia di arrostirci e basta. Ciao a tutti, buona serata.